Eccoci all'interno del Museo Trucco, in particolare sulla scala che porta le sale espositive. Anticipo alla collezione questa splendida raccolta di foto di Gianni Berengo Gardin, che è un artista di fama internazionale, che ha prodotto queste foto per la regione Liguria in occasione della presentazione della Dama Bianca di Fontana a Bruxelles. Con l'aiuto della Fondazione De Mare siamo riuscite ad acquisirla e le abbiamo collocate qui all'ingresso perché rappresentano i luoghi della ceramica. Da questa parte inizia l'esposizione.